musica 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 ahahah guarda musica musica cosa stai facendo Claudio? musica no no io non so mica qui musica 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 che sta nel basement? ma colo nell'angolo si ahahahah ahahah tutti i chitometici marroni ho trovato oh che sto killer veramente ahahah cosa fa? che c'è che c'è 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 l'île ahahah ahahahahahha ahahahahah ahahah ahah per farlo questo vero nel poi mi lascia la torcia no 4 no bastardo no 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 si è resa ma non no si è resa si fa nonno e vuole crescere puoi vedere ma non no 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 fai il nonno e modello chi la raccetta o ti raccoglie levati levati merda ma io non esco questo pollo fai che la ci passa no si ma non no io non volevo basta un tot guarda non ci speravo va la bucchia quando in questi momenti voleva il no head perché dà il colpo e se ne va tra una pure l'altra Melinda sta facendo la giornale sta facendo la giornale a noi a fare qualcosa si raga se questa alla fine ci ammazza tutti nooo ci ammazza tutti in quale universo non lo so ma nemmeno in quello inesistente nemmeno in quello parallelo ma che ha la barba e che ti sei messo davanti con la torcia? che cosa volevi fare? ma perchè mi porta fuori? no 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 bodyploccalo nooo sono uscito per sbaglio no no la torcia ciao 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 ciao